Innanzitutto volevo ringraziare l'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile che ha colto con entusiasmo la nostra proposta di abbinare al tradizionale premio della giuria anche il premio del pubblico. L'obiettivo era quello di dare maggiore visibilità ai progetti partecipanti al fine di raggiungere quello che crediamo uno dei principali obiettivi dell'iniziativa quello di promuovere l'architettura e l'edilizia di qualità. I risultati sono stati molto positivi con oltre 17.000 visitatori unici al sito web che abbiamo dedicato al progetto e all'iniziativa e oltre 60.000 pagine visitate.